Le seguenti clip provengono dai canali YouTube chiamati Fresh and Fit e Just per l'Eclipse. Metterò un link a questi video nella descrizione. Gli ultimi clip sono video TikTok casuali. Ricorda che questo video è tradotto dall'inglese. Tuttavia, poiché tutti parlano a velocità diverse, il suono o le voci non corrisponderanno. Inoltre, mi dispiace per eventuali errori con la traduzione. La maggior parte dei software di traduzione è accurata solo all'80% circa e alcune lingue sono più difficili da tradurre rispetto ad altre. E grazie per tutto quello che sostieni. Pensi che sarai più attraente e troverai un ragazzo ora o le tue possibilità migliori quando avrai 30 anni? Qualche volta penso. Voglio dire maturo ora. Penso che molte donne diventino super attraenti intorno ai 28, 30, 32 anni. È come una bella età perché sa cosa vuole, quindi mi sento come se potessi ottenere quasi lo stesso. Perché è che accetto la realtà, so che un ragazzo di 6 piedi e 5 sarà più attraente di me a 6 piedi e 3. Ma perché quando dico a una donna, che una donna a 24 anni è più attraente di una donna a 34, si arrabbiano per questo e dicono o no. Ci sono ragazzi là fuori a cui piacciono le donne anziane o bla bla. La realtà è che non puoi competere con il periodo delle donne più giovani. Se c'è una bella 21enne e una bella 31enne, l'uomo andrà con la 21enne. Perché è radicato nella pedofilia? Gli uomini scelgono anche le donne più giovani perché possono conoscere il controllo, controllala un po' di più. Le donne vogliono un uomo esperto. Le donne vogliono un uomo sicuro di sé, ambizioso e più alto di loro. Gli uomini vogliono una donna che sia sottomessa, docila, carina e giovane. Come un bambino. Questo è l'esempio essenziale che gli standard maschili di ciò che vogliono in una donna sono sempre demonizzati. C'era uno studio fatto signore. Va bene, questo è il fatto. Non sono solo io a dire cazzate. Questo studio di un'università ha affermato che gli uomini tra i 18 e i 60 anni preferiscono le donne tra i 18 e i 23 anni. È tutto radicato in un fatto biologico. Cosa sto dicendo? Non so perché è così difficile da capire. So che a voi donne non piace quello che dico, ma è la verità. Questi sono fatti. Ora i sentimenti no. Opinioni non pensieri. Questo è un fatto. Scientificamente parlando. Statisticamente parlando. Le probabilità delle donne si riducono a trovare un uomo man mano che invecchiano. Sì, per me è pazzesco che, come se dicessi a voi donne, questa è la verità. Ecco com'è. Diciamo che ha appena avviato un'attività improprio, ma guadagna 45.000 all'anno. Usciresti con lui? Non potrebbe permettersi il mio anello di fidanzamento. Non so niente di Rims. Quanto? Quanto costa? 200.000 dollari. Ragazza. Vuoi 200.000 dollari? Sei pazzo. Se mia madre l'avesse chiesto a mio padre, mio padre le avrebbe detto di andare a cercare un nuovo ragazzo. Non c'è nessuna possibilità che mio padre spenda 200.000 dollari per un anello di fidanzamento. No. Lui, mio padre, è un multimilionario, il che significa che è nel mezzo per cento più alto dei guadagni. I diamanti apprezzano. Oh mio Dio. No. No. Dio mio. No. Penso solo che ti perderai molti ragazzi con questi standard pazzeschi. Voglio dire buona fortuna se funziona per te. Per me suona come un anello di fidanzamento da 200.000 dollari. Penso che i ragazzi lo sentiranno e diranno no, no, no. Ok, ma sto solo pensando di sapere che gli uomini che fanno quella somma di denaro in genere vogliono la giovane ragazza di 21, 22 anni? Non credo. Una ragazza di 21 anni, a meno che tu non sia Callie Jenna, è realisticamente troppo giovane per essere come se uscissero ragazzini. Come se fossi troppo giovane. Questa è la città di Rishton Park Illinois, ed è una città americana tutta nera. Ti sto mostrando questo quartiere per farti capire. Le case in questa città costano circa 200.000 dollari statunitensi. Questa casa è costata 230.000 dollari statunitensi. In uno dei video, la donna ha detto che avrebbe sposato solo un uomo che poteva permettersi di comprarle un anello di fidanzamento che è costato 200.000 dollari statunitensi. Quindi, vuole che un uomo le porti un anello che tanto quanto una casa. In entrambi i video, le donne credevano o pensano che gli uomini di successo volessero una donna più matura o più anziana. Non importa quante volte gli uomini abbiano tentato di spiegare che gli uomini preferiscono le donne più giovani alle donne anziane, tutte le donne continuavano a dire agli uomini che si sbagliavano. Come se noi uomini non sapessimo cosa gli uomini preferiscono. Anche l'ospite femminile Perli ha tentato di dire alla sua ospite femminile che gli uomini preferiscono le donne più giovani, e l'ospite femminile ha detto a Perli che si sbagliava. Molte donne negli Stati Uniti vivono in un mondo onirico o fantastico e faranno tutto il possibile per giustificare le loro fantasie. Ad esempio, ho un'amica che conosco da oltre 30 anni di nome Kim. Al college, Kim aveva un ragazzo di nome Mike. Dopo che entrambi si sono laureati, hanno vissuto insieme. Un anno dopo, hanno rotto o interrotto la relazione e Mike è tornato a casa nello stato dell'ohaio. Mike si è sposato e ha avuto alcuni figli, ma Kim non si è mai sposata. Quindi, il problema non era con Mike. Le donne controllano l'accesso al sesso, ma gli uomini controllano l'accesso al matrimonio. Se una donna ha più di 30 anni e non è mai stata sposata, allora c'è un motivo per cui nessun uomo l'ha scelta o scelta. Molte donne dicono che non riescono a trovare un brav'uomo dopo aver raggiunto i 30 anni. Tuttavia, il rovescio della medaglia è che per gli uomini, quando incontriamo donne che hanno più di 30 anni, scopriamo che sono deluse o piene di sé. Pertanto, la maggior parte delle donne negli Stati Uniti, che hanno più di 30 anni, non sono materiale matrimoniale. Ora lascia che ti mostri come andrà a finire per questo tipo di donne. Lei prima dei 30 Oh? Probabilmente sta parlando con altri ragazzi. Lo sono certo. Sono. A meno che tu non abbia deciso che voleva stare con me e renderlo ufficiale, sono sul mercato. Sono sul mercato e vi voglio tutti. Lei dopo i 30 Mi sono detto, Quindi fammi tornare qui fuori, su questa sella. Incontrerò delle nuove persone. Esci dalla mia zona di comfort. Quindi ho visto una pubblicità su un incontro di single. Sai, socializzare. Io dado. Ci sono due uomini lì. Sì, erano entrambi gay. Ho solo intenzione di andare avanti e dirlo. Il bar per gli appuntamenti è all'inferno. Sono andato ad un appuntamento questa settimana ed ero felicissimo. Felicissimo che quest'uomo abbia tirato fuori il chapstick e l'abbia indossato a metà dell'appuntamento. E questo mi ha fatto sentire felice dentro, perché c'erano un sacco di, un paio di bandiere rosse. Sono tornato a casa e ci ho pensato davvero. Ero tipo, oh wow, quello era un appuntamento ok. Ma si è messo quel chapstick, e questo dimostra che, sai, voleva davvero avere delle belle labbra. Come se fosse il bar per un buon appuntamento. Oh, se ti chiede come va la tua giornata ragazza, ci sei. So che tutti vogliono odiare questa ragazza per quello che ha detto. Ma la realtà è che il livello è così basso. Così fottutamente basso. Sto cercando qualcuno che è finanziariamente stabile. Mi piace anche mangiare così. Inoltre, qualcuno che sa come. Voglio anche sposarmi e avere una grande famiglia. Grazie per aver guardato. Fai clic sul pulsante mi piace, iscriviti, lascia un commento e condividi questo video.